Un saluto a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale Oggi con me abbiamo la Sarosky e per la prima volta ci chiedete un match tra donne ragazzi Ovvero Real Replay contro Charlotte Flair per il titolo Women's Championship a Breastelmania 39 Quindi fresco 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 ragazzi e finalmente ci chiedete un match tra donne Le Divas Le Divas le utilizziamo Esistono anche loro ragazzi Non ci sono solo i maschi Penso sia Allora ricordo che abbiamo portato altri match tra donne Forse uno Mi ricordo che abbiamo fatto un tag team tra le sorelle Bella e Trish e Lita Ma lì raga uno dei primi insomma Era vecchio Però poi del resto piace a quello e basta Quindi non abbiamo portato altri Questo forse sarà il secondo Il secondo Non il terzo ma penso più il secondo Bella Real Replay Mamma mia Cattivissima Entrata nel personaggio Lo sai che a me non piace così Ma due pop è nella scheda No sono due occhi Occhi di gatto Occhi di... Non lo dico Eccolo Non lo dico Ecco Lo saltiamo però perché ho bisogno della nature boy woman The nature girl The nature girl Quantitatus E dire che lei non voleva questa vita Te lo ricordi nel documentario Sì sì abbiamo visto un documentario sulla vita di Ric Flair Vi consigliamo di vederlo Non perdete Lo dico 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 E' riuscita alla fine a tramandargli tra virgolette La passione Per il wrestling Diciamo più il figlio piccolino che è morto Il fratello Il figlio di Ric Ah sì Charlotte Raga non abbiamo scaricato le versioni dell'evento Usiamo la versione Però sto già durando troppo Vabbè skipami questa Eh skipando ma non Forse schippa tu Ah Salta Sì No non va Non va? No no Fa proprio un cavolo Raga Si è flipato Vabbè Fogliatamente che si è flipato il gioco Con un'altra Non mi si è resaltato No no Vabbè Oddio Vabbè Ti do un ciò Oddio Si parte Subito Mi sbottere risposta ragazzi Mi sento un po' a disagio Posso dirlo Perché? Perché non so Non lo so Non sei abituato Tu sei abituato Ad avere Triple H Si in effetti è un po' strano Non è Oh È bella È un po' strano Non è Anche perché poi le donne hanno una resistenza diversa Capito? Ma quelle mosse anche Non sono come le classiche È bella Certo Però vabbè Può essere Bella questa mosse Vedi però C'è un po' di variabilità C'è varietà Variabilità Variabilità Non lo so Vabbè raga No Wow È un po' di varietà È un po' di varietà Nelle mosse Hai fatto la stessa mossa Di Rick Giusto? È un po' di figure core Fai che non lo so Ti spezzo l'osso del collo Faccio qualcosa Mamma Bello Madonna Madonna raga Sono Bevi Sono interessanti Questi Vabbè Non me lo aspettavo Mi salto completamente La Y Attenzione Rai Io mi pompa Nelle casse Ma secondo te La farai Woo Io Potrei Mi faccio Ammirare La mia parrucca Bionda Sì Puntiamo un po' le gambe No Io la devo Io non so nemmeno Che mossa speciale A Rai Rip La mossa finale Non so nulla Non sappiamo nulla Però mi sta piacendo Mi sta piacendo Perché Rai Rip Play Vediamo Ah cazzo Ripeto questa Vediamo Mosse nuove Cheat Vediamo Combattenti nuovi E poi raga Facciamo felice Anche chi Ci ha chiesto Il match Esatto Te la potevo ribaltare Soprattutto Quello Oh L'hai incitato D'altar Dimi Rai Cazzo Oh Bella raga Ti devi rilassare Però Non mi dai modo Di di quello Oddio Per i capelli Bello Non mi sta dando modo Di difendermi Ma sta con attento Era Dominic Misterio Certo Vedi potevamo mettere No dai Non era così Potevamo mettere Dominic Misterio Lui come manager Oh sì Bello Questa non sa più Un cut Morta Charlotte Insegna agli angeli A come alzarsi Ma cosa Ti stai facendo Oddio Non si capisce niente È infinito Lo mi sta facendo la mossa Oh Bagatta Bagatta Bella In italiano Bastascia Bagatta non lo sanno Cosa vuol dire Stavoschi Oddio È andata vuota Non lo so In italiano Bastascia Bastascia Sì Penso di non capire Fermo Cosa Oddio È il tuo comeback È già finito No È uguale a quello Di The Rock È uguale a quello Di Sean Oh Mossa speciale Oh cazzo Bella Sembri tu al mare Quando mi fai la battista Bomb Raga Oggi eravamo al mare Non avete idea Non avete idea Di cosa ho fatto Alla Saroschi Tipo Quattro e più Poi Le ho fatto Una porscia Di quella puttana Ma perché Riffa sempre questa Non lo so Le ho fatto Quattro e più Poi Era impossibile uscire Raga Mi stavo per fare Il I tre Tre amicos Raga Però Si è Si è liberato Aspetta Mi stavo scendo Eccola No Fermo Fermo Voglio capire In che angolazione Ti devo fare La mossa speciale Spiar Spiar Ma che brutta Le animazioni Raga Rimazioni da donna Si troppo brutta Fammi vedere Questa mossa Cosa No te la paro Questa è la mia mossa finale Ma che merda è Ma secondo me Se vai nelle gambe Vai nelle gambe Avvicinati Tanto sono stordito Non te la posso parare Wow mossa finale Fai Raga Non ci posso credere Vediamo La figure for del padre Vabbè Mi sembrava strano Oddio Oddio Si piegava così Oddio È vero Oh Sarò schifo Se io premo Vinco ragazzi Non potete capire Sto pre Cioè io Io premo un attimo Richard Cioè Il dittino Sai che l'ho dovuto usare Beh Cosa La resilienza Ma sei serio Certo Stai schiacciando Ma stai non l'ho più premuta Stai schiacciando Come una dannata No vabbè Perché l'ho dovuta usare Bella però Mi è piaciuta Uh ragazzi Adesso parto io Sì Bello Bello questo comeback Cosa Hai finito così Sì Vabbè Guarda Non corri più No Oddio Oddio Raga No no Che prezzetto le scelera Non le scelera sola Non so perché E vabbè Sono Shawn Michaels Avresti i media 10 Raga Vabbè Non è possibile Oddio Guardami Awesome Belli questo stivale Con il CF Charles Flair Sì Coppiati dal padre Oddio Parato questo Bello Bello Ma donna Ragà Con le tette incollate Sai che forse Al petto Vabbè Ma anche tu Cazzo Mi hai parato una mossa finale Ma come Mi hai detto voglio fare Botte e risposta Mi hai detto che volevi fare Botte e risposta Questo calcio non è in faccia Eh Puzzo Dai che è andata Raga Mossa finale Direà replay Combo schienamento Forse esce Sarò No La costringiamo ad usare La resiliente Raga E allora ti spacco il braccio Un attimino Poi ti prendo la testa Te la voglio Prendere un po' A pugni Mamma Mi stai aprendo Ma le donne si aprono? Certo Non me li so sangue Anche loro hanno Oddio Oh Mossa speciale Yes Si Attenzione Ne approfittiamo Raga Ne approfittiamo No Non dirmi che ho sbagliato la mossa L'hai sbagliata? No È lei È lei Raga È lei È lei Combo schienamento Andiamo a vincerci il titolo Come nella realtà Raga Mettione Saloschi Forse lo ce l'ha fatto Mamma mia Mamma mia Mi immagino già Dominic Con la manetta I'm your money Io e Claire piangendo Ed eccola New Smackdown Women Championship Ecco Come è successo Davvero nella realtà Nella realtà Che poi Charlotte mi sa che era Non abbiamo fatto storia Raga Adesso ci sto pensando Vabbè ci stiamo concentrati Suale Stiamo concentrati sul match Non peraltro Non la sapevo la storia So solamente che c'era una fai D'altra di loro Anzi nemmeno Non lo so se Ma cosa c'era Charlotte Cioè sappiamo che era Campionessa da un po' Era la campionessa da un po' Esatto Da un po' di mesi Tipo Roman Reigns Capito? Più o meno Aveva sfragassato la minchia Quindi è giusto Che ogni tanto C'è un ricambio E adesso È lei la nuova È ancora? Tuttora? Sì sì Anzi adesso ha il nuovo titolo Come quello di Roman Reigns Di Seth Rollins Però bianco Quindi gold Però bianco Esatto Sì come questo Ragazzi noi vi ringraziamo tantissimo Per questo match Femminile Tutto femminile Grazie Perché non esistono Solamente le superstar uomini Quindi spero che Ci facciate sapere Altri match Con le Divas Che magari ve lo portiamo E nel frattempo Io e la Sarosky Vi diamo Un saluto E ci vediamo Nel prossimo video Vi ricordo Vi ricordo sempre Di lasciare un like E un commento E nulla ragazzi Un saluto Ciao 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 Ciao